Allora mister, ci troviamo a Rosello, come ti sembra il posto per farci il ritiro precampionato di preparazione al nuovo campionato? Il posto è bellissimo, ci sono dei posti veramente belli, abbiamo visto un po' i percorsi per poter sfruttare con i ragazzi per questa preparazione precampionato e anche un modo per stare sette giorni insieme, per socializzare, dei posti bellissimi dove possiamo anche fare un lavoro di preparazione fisica anche per socializzare tra di noi se ci saranno anche dei nuovi innesti nella squadra e poi vedere questi posti e pensare di stare sette giorni insieme e preparare la stagione preparandoci dal punto di vista fisico e anche mentale è un modo anche per programmare questa grandissima stagione che ci apprestiamo a fare dopo quella che abbiamo concluso e per dare anche ai ragazzi un'esperienza diversa da copartire con i soliti allenamenti sul campo ho visto dei posti, anche dei fiumi dove possiamo fare anche un certo tipo di lavoro di recupero veramente bello, sono entusiasta, abbiamo trascorso queste ore insieme in questi posti abbiamo scelto dei percorsi da poter fare, un lavoro mirato anche per la struttura fisica dei nostri ragazzi e anche un modo per divertirci poi la sera, ho visto questi due paesotti qui vicino al Rosello dove la sera possiamo socializzare e perché no socializzare anche con la gente del posto e niente, una bella esperienza, speriamo di partire con il piede giusto Ah mister, adesso abbiamo visto anche la struttura all'ostello, abbiamo visto che ci sono i scout ci sono dei ragazzi di scout che stanno facendo un lavoro nel cortile sì, questo è una cosa che ho fatto già in esperienza in un'altra società dove sono stato prima è venuto che stare a ricordare, è un mio progetto iniziale che dobbiamo pubblicizzare alla grande perché stare sette giorni insieme, vivere quotidianamente dal punto di vista del lavoro sportivo e anche perché no quello di cucinarci, quello di stare insieme a tavola di preparare il lavoro quotidiano della giornata con le pulizie, l'estimazione delle camere è un modo diverso di sentirsi squadra così come le squadre di Serie A vanno in ritiro ma mentre loro hanno tutti i comfort possibili e immaginabili noi invece ce lo dobbiamo guadagnare giornalmente con il lavoro fisico e tecnico perché lavoreremo anche dal punto di vista tecnico ma anche quello a turno di preparare la colazione, di preparare il pranzo, la cena e poi la sera uscire qui nel paese, stare insieme con la gente del paese, divertirci e poi la sera a nanna perché ci sarà un programma che stabiliremo tutti insieme quello che deve essere la giornata sia da un punto di vista lavorativo che da un punto di vista di divertimento A posto, mister allora che dite ai ragazzi? Preparatevi dal 21 Ai ragazzi posso dire che da domenica sera già praticamente invaderemo Rossello Rossello come si chiama? Sì sì, Rossello E da lunedì questo posto, la Bettina di Rossello sarà il nostro campo di lavoro da un punto di vista atletico che già ho preparato e che affronteremo quotidianamente con due sedute di lavoro giornaliero, mattina e sera con i tempi di recupero Interrotto con lo scarico sul fiume, abbiamo visto il fiumiciattolo qua che abbiamo visto poco fa dove andremo a fare anche un lavoro di recupero nel fiume e con tanto divertimento durante la giornata e con una parentesi tecnica sul campo che ci metteranno a disposizione perché ci sarà anche tanto pallone, non ci sarà soltanto la parte atletica Sì sì, devono venire tutti, anche quelli che devono sostenere gli esami di riparazione Ma soprattutto quelli che devono studiare perché non è che aspettiamo l'ultima settimana per recuperare, per poi andare a fare l'esame di riparazione qui ci sono i tempi morti dove i ragazzi, quegli asinelli che ci portiamo non è riferito a quelli che studiano, ma quegli asinelli che non hanno studiato si possono portare il libro, quale posto migliore per poter studiare in santa pace in meditazione senza avere l'uso del televisore, delle ragazze invece qui possono recuperare, studiare e nello stesso tempo prepararsi fisicamente per l'anno calcistico e scolastico Un appuntamento al 20 di agosto, la sera saremo tutti quanti qua porteremo tutto il materiale che ci servirà per prepararci da un punto di vista sportivo e il materiale che ci servirà per stare sette giorni insieme e per poter lavorare e divertirci Un appuntamento a tutti, al mio magico gruppo Allora, in bocca al lupo, mister Ok, grazie Zio Carlos Come avete così Mentre ti stai rimettendo in macchia